Perciò ho chiesto a Tiguan che non c'era in chat se era una buona persona Perché non l'ha chiesto Attenzione, con questa cosa stacchi il trio Psycho, Buser, Juke In che senso? Nel senso che il 30 ci sarà La conta per chi avrà il VIP Ebbè ma io tanto gli chiederò sempre il mod Quindi il VIP mi si leva Ebbè Quindi tutto ti devi comportare bene Per mantenerti il mito Ah, mannaggela Eh, la chiappa questa Sono qua Eh, la merda Io non posso stare senza il VA Robby Aiutatemi voi della chat Se finisco all'ospedale è solo colpa vostra Sarò sulla vostra coscienza Per quanti mesi sono abbonato? Uno Tiguan Da qui alla fine del Cioè da qui fino al mese prossimo 30 giorni Non so se poterò inerti voglio c'è Non so se poterò inutile Non so se poterò inutile Che doveva è bello mio non posso stare per marghi lungo a difenderti siiiii!! Nice!! che cosa? guarda il mio arm dai Ma guarda! Ma che schifo! Ma che cazzo non fa quanta vita l'ho lasciata Porca ptana E te le rendi i gonz Mori schifo Schifoso Eh vabbè Ma... Ce la fate a smettere di morire Ma non è colpa mia Ha dato un vantaggio assurdo Ho capito Non gioca sotto torre Farma sotto torre Stavo sotto torre Ti ha derivato a livello 3 E quello è il problema Kaisa fa danni a subito Perché? Non c'è un item Dai che è morto Dai che è morto Che t'attacco Che t'attacco Vabbè Vedo la paura Nel tuo cuore Per la double kill iniziale Alba Whatever Whatever Anche i coi cari soffriranno Anche i coi cari soffriranno Non fumo di marci Pra Don't fumo di marci мол Ma che è morto E' disabile a punto giusto E' disabile a punto giusto bro Guarda io quanta vita c'ho Fatti capisci Cazzo shot Venga tutto due manco Cazzo Cazzo maggi porco Cazzo Vabbè Che ti devo dire guarda? Farm sotto Thor E non morire Non fai dare Cazzo Sono malvato Mettila di lugare Cazzo 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 Questo Yasu Fortunatamente mi sembra Abbastanza scarso Io non fight E' quella che si fa fightare Di conseguenza Da un muore oppure io Perchè sempre sa Forse fanno quello che vogliono Con me Cazzo Cazzo Che è Cazzo Faccio il longboard Cazzo di W che c'è? E altro non c'è? Fiscio questa, uno Due Quattro Ma porca puttana Allora, questa è una shutdown di 600 gold Qui nel gruppo Sono ritornati in gioco La mostra è da manco No Oddio no, Gianna, una stavolta Non è che ti devo dire il mare mio, cioè Evidentemente gli piace il cazzo, cioè Anche i portari soffriranno Anche i portari soffriranno Ma io non ci credo, ma Sto ammissando tutti i camioncini Vabbè, ma quella sta intando Ah, eh Allora, non mi credi quando te lo dico Eh, pare colpa mia Non è intano Ha ragione Un po' di rispetto per chi trolla, su Oh Cioè, Yasuo è penoso, eh Eh, killatelo Non posso Chiamati Jax, killalo Il Jax a meno Anche se è morto tre volte Un ganchino lo potrebbe fare Ma dobbiamo... Abbiamo solo bisogno dell'Hate Chi è l'Hate? Scala Mi sarei potuto buttare, ma non mi chiede di staggianta No, no, non fare niente Era una kill sui, però guarda questa, come si è uscita Sì Sì Vado io? Vado io? No, non mi ha aggrappato Sì 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 Sei full vita, vai Sei full vita, vai Vabbè, lascia fare Vabbè, lascia fare Sì Il dolore ti attende Il dito che non piangere, eh Si è ben chiaro Sì Ciao brecoffino E ciao alien gaming Due non sub Allora Jex mi sta prendendo Scusate, ma è un game veramente Cominciato con i piedi Ma lo sai che c'è gente là? Perché ci vai? Sì 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 What the jump again? Sì 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 Se dovessi associare un film a questo game direi Il pianeta delle scimmie, dagli ugore nei ai a suo Non più all' unutully Aga È uno Dile C'entra Che Shì Grazie a tutti. Sì i tuoi ordini mi crediamo non dovrebbe stare dietro di te ma... il piante, il piante, il piante... sono sempre una volta non, non dovrebbe stare qui non si pensava, non mi chiede sì, perché non... oh, sei bouffi Il dolore ti attende La tua torre è stata divertita Oh che volta Mi tornerà Oh What Sì, lo prendo, lo prendo Eh no, cioè, basta No, no, sei morto No, no, sei morto Sì, non, sei morto No, sei morto No, sei morto la valera cazzo un po' che non posso buscare è inutile che vieni mid ma non venire a farmare la mid no, no, tu ti fa ok, c'è Jackson è Gianna che è mongoloida, deve baitarli aveva la Q-Up, poteva seguirli, se no si buttava non l'alzata non è facile da vincere vedo la paura nel tuo cuore qua hai guardato, eh, quel guarda Jackson questo non è una norma non è un New York militario non è un po' molto lato non è un po' molto lato non è un po' molto lato E' un po' di più di questo E' un po' di più di questo E' colpa di Gianna, sempre colpa sua Vai, continua a fare l'idiota Vai, continuerai a morire all'infinito adesso Io lo spero che questo accada, io lo spero che accada anche a Kai'Sa, no? Non è che stanno facendo un baron? Sì Non c'è la ultigliazione, mi credo che fai... Ecco Attenzione con l'ultigliazione per me Ok, boh Non puoi l'ordine, mi debiano E a parte, non sono un po' di tanto indicare i danni, iniziate lei Con la build, io Facciamo i trick pure, abbiamo possibile Reggex, vai Ho Olore piattante Mamma mia Jaxa Ma che altro sia fatto che ho chiuso in mecca Se che non ho subito un sacco io Buonanotte, Defaz A te bro Mi la rende la grovida al Natale Ok Dio bello 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 Sì, sei sempre appiccicato a me, anche se non prenderai il farm, però... No, ma a me ne farm una frega poco, perché io posso fare 100-0 adesso. Ogni crito che ho. Ah, ha tippato quindi sta facendo il Baron. Corri, 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 corri. Sta arrivando, sta arrivando. Guardate, vai, vai Gianna. Bravo, c'è. Via, via, via. Non c'avevi il cage? Ce l'avevo, ma non ce l'avevo più. Ce l'avevo appena usata. Va bene così. Io non ce l'avevo più. Drake, Drake. Il Drake ci serve assolutamente? Ci serve come l'acqua? Eh, no. FTP questa gente. Siamo in lane, siamo in lane. Eh, valeva. Presa. È morto? È morto, è morto, è morto, è morto. È morto, è morto, è morto. È esagerata quella ultima. No, no. Sì. Ce l'ho tra 40 secondi ora ultima. Sì. Eh beh, se volevi la kill per te va bene, però ce l'ho io. ho preso Pyke. Ho preso Pyke. Ho preso Pyke. la torre. Eh, eh. Teniamolo, eh. Teniamolo, eh. Teniamo il game. Teniamo il game. Tu fuori Pyke. E' più la calda. Solutamente. A per la scuola. Sono la torre? Io, no, pure neanche. C'è tutto il G-Vax. Tanti passi, ti ha. Vai. A casa.